Durissimo l'intervento delle segreterie RSA Stada dei Parchi con Domenico Fontana, Saulo e Madonia sugli interventi di messa in sicurezza dell'infrastruttura 24 e 25. Siamo al paradosso, scrivono, per cui una necessità ovvia, visto il rischio a cui l'infrastruttura e quindi gli utenti sono esposti, una necessità ribadita in atti normativi, divenuta obbligo dopo apposito intervento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è oggi ancora una volta esposta, per effetto di procedimenti burocratici incomprensibili ed inaccettabili, per chi quel rischio conosce, a ritardi o blocco dei cantieri dovuti non a carenza di risorsi, ma a fatti specie ancora più grave ed inaccettabile, al mancato sblocco messo a disposizione delle stesse. In questi giorni scrivono ancora ai sindacalisti la collettività abruzzese alle prese con le notizie che riportano in primo piano le scelerate inadempienze purtroppo drammatiche e non recuperabili rispetto ai fatti dolorosissimi di Rigopiano, oltre al continuo riaffacciarsi del rischio sismico, una tragedia fatta di sottovalutazioni inadempienze. Noi pensiamo che tale condizione non possa e non debba ripetersi più. Le necessità di interventi tempestivi sull'infrastruttura sono noti, i cantieri avviati, tanti tantissimi lavoratori impiegati, disagi da affrontare oggi per avere sicurezza domani, soprattutto lavori da terminare con le modalità previste negli atti normativi approntati, al fine di evitare di far ricadere il loro costo sugli utenti. Tutto ciò, scrivono ancora in mancanza di provvedimenti che superano lo slittamento della messa a disposizione dei fondi, potrebbe risultare vano, ovviamente i primi a pagare sarebbero i lavoratori impiegati nei cantieri, sicure vittime dei ritardi burocratici, pagherebbero però un prezzo salatissimo, due concetti basilari rinunciabili, sono la sicurezza collettiva e il destino di quei territori attraversanti l'infrastruttura, della quale, come drammaticamente già dimostrato, dipendono. Noi, come organizzazioni sindacali aziendali di strada dei parchi, non possiamo tacere tale rischio, non possiamo per quanto esposto e non possiamo perché nella concessione operano circa 450 dipendenti che oltre ad essere impattati dai destini della concessionaria sono anch'essi fruitori dell'infrastruttura. Per questo e anche per avere notizia dell'iter, ormai quadriennale, dell'approvazione del piano economico finanziario dell'infrastruttura, abbiamo con urgenza richiesto di essere convocati presso il Ministero delle Infrastrutture. I cittadini meritano una strada sicura e dipendenti certezze.